L'ex capo della BCE Mario Draghi ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo e di cercare in Parlamento una maggioranza sufficientemente solida, una svolta politica esaltata da alcuni, demonizzata da altri. Le ultime tragedie vissute intorno e dentro ai social impongono la costituzione di un osservatorio straordinario che protegga i più giovani. Se ne parla nel nostro appuntamento con prospettive. Il commercio di confine al collasso, meno 70% al mercato di Luino e Ponte Tresa, crollo verticale delle attività legate al turismo e servizi. Ascom chiede a Regione Lombardia un contributo su misura. E in questo momento di crisi Aime apre un nuovo sportello utile a recuperare liquidità. Destinatari, famiglie, imprese, padroni di casa. Nella pagina sportiva il futuro delle arti marziali, strettamente legato a quello delle palestre, ormai chiuse da mesi. Poi le bocce con le novità dai vertici di categoria. Buonasera, incominciamo questa seconda edizione del TG di Rete55 facendo un passo indietro e tornando all'ora di pranzo perché subito dopo mezzogiorno Mario Draghi è salito al Quirinale per ricevere l'incarico dal capo dello Stato di formare un nuovo governo. L'ex presidente della Banca Centrale Europea ha accettato con riserva in attesa di incontrare le forze politiche e verificare la presenza di una nuova maggioranza, presumibilmente allargata. L'avvento a Palazzo Chigi del noto economista, figura apprezzata e stimata a livello internazionale, rappresenta, comunque la si veda, una drastica sterzata dello scenario politico nostrano. Parliamo di attualità, rivolgendoci però al mondo dei social e al fenomeno del cyberbullismo che è ancora, come dicevo, di grande attualità, come ci mostra Chiara Milani nella sua rubrica quotidiana Prospettive. Il cyberbullismo è un fenomeno sempre più virale? Dopo l'assurda vicenda della bambina di 10 anni morta per una sfida su TikTok e in vista della giornata nazionale contro questo fenomeno, sabato 6 febbraio un panel di esperti discuterà delle varie sfaccettature di questo preoccupante trend sulla pagina YouTube degli alunni dell'Insubria. A parlare delle responsabilità in questa materia è stato chiamato Mauro Alovisio, presidente del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea e Torino, che giovedì 4 febbraio alle 20.05 su Rete55, ospite della trasmissione Prospettive, fornirà in anteprima consigli a nonni e genitori, oltre ad analizzare l'escalation di questa tendenza. Secondo lei, con il lockdown, con le scuole chiuse, questo fenomeno che colpisce così tanto i ragazzi è aumentato o è diminuito? Il fenomeno purtroppo è aumentato, è aumentato perché chi era fragile, ha problemi, è peggiorato notevolmente. Inoltre i ragazzi sono a casa e quindi non hanno più gli spazi in cui sfogarsi, pensiamo allo sport, e soprattutto non hanno più le figure di presidio, magari uno zio, un parente o altro, e quindi soffrono. Sono dati che sono anche della neuropsichiatria infantile, sono aumentati gli atti di autolesione dei giovanissimi, che ricordiamo che tra gli 11 e gli 7 anni la seconda causa di morte è il suicidio. Indubbiamente bisogna veramente fare questo lavoro di rete, tra l'altro chi vive a figlio o ai nipoti avrete notato che è in aumento anche un altro fenomeno che è il bullismo nei confronti dei docenti. Questa possibilità di avere le lezioni online, abbiamo avuto dei fenomeni di intrusioni di soggetti anonimi per diffamare e insultare altri ragazzi, e anche l'utilizzo, registrazione, divulgazione di video anche che vi leggiano verso i propri insegnanti. Quindi abbiamo l'aumento della violenza online, proprio perché i ragazzi sono a casa, sono più annoiati, sono più stanchi, e quindi tendono a isolarsi. Quindi direi che bisogna creare subito un osservatorio d'emergenza, non solo adesso, ma quando i ragazzi torneranno nelle proprie aule, perché dovranno poi rapproparsi dei contatti della socialità, quello che consente a loro di sbagliare, ma anche di imparare, giocare, ma anche chiaramente per crescere. Ristori aggiuntivi per l'economia di frontiera. A chiederla gran voce è Ascom Luino, che invoca dalla regione Lombardia un contributo straordinario per un tessuto commerciale al collasso, complice alla lunga chiusura delle frontiere ai turisti stranieri. Tra l'estate e il periodo di Natale, spiega il presidente Franco Vitella, abbiamo registrato 150.000 visitatori svizzeri, in meno è un calo della clientela del mercato luinese, pari al 70%. Restiamo nel campo dell'economia e parliamo di uno sportello per chiedere credito. L'ho attivato Aime. Uno sportello per il credito, cioè per accedere a una liquidità di cui famiglie e imprese avvertono un crescente e angosciante bisogno. Aime Varese ha deciso di aprirlo proprio adesso, in un momento di fibrillazione politica, di crisi economica e di marcata incertezza prospettica. Vi si potrà rivolgere l'imprenditore, che spera di aggirare le porte chiuse o le maglie strette delle proprie interlocuzioni bancarie, ma anche professionisti, singoli cittadini e padroni di casa, in cerca di interventi strutturali, visti i ritardi che stanno rallentando il volano, noto come 110%. Ne parliamo col direttore Gianni Lucchina, al quale insiste, le associazioni devono adeguarsi ai tempi che corrono e attivare nuovi servizi. Aime non si ferma, Aime ha messo in campo un'altra iniziativa, un servizio studiato apposta per le imprese, per le piccole e le imprese, per gli amministratori di condominio e anche per i cittadini. Abbiamo aperto infatti lo sportello credito, al quale tutti si potranno rivolgere per chiedere consulenze, per chiedere informazioni, ma soprattutto per chiedere credito subito. Anche a tutte le famiglie e le persone che intendono aderire all'eco bonus, 110%. Uno sportello aperto presso la nostra sede, tutti nel primo e terzo mercoledì di ogni mese, dalle nove a mezzogiorno. Parliamo ora di cultura, sabato 6 febbraio, il liceo classico Ernesto Cairoli di Varese celebrerà la giornata mondiale della lingua e della cultura ellenica. I dettagli. Subito prima che infuriasse la pandemia, gli alunni del liceo classico Ernesto Cairoli di Varese avevano vissuto l'ultimo momento di piena comunanza celebrando la giornata mondiale della lingua e della cultura ellenica davanti all'insigno e filologo Franco Montanari. Era l'8 febbraio dell'anno scorso, in una quotidianità libera dall'obbligo delle mascherine anti-covid, i suggestivi caratteri dell'alfabeto greco dovevano apparire ancora come segni indecifrabili a Martina ed Esosè. Oggi appassionati ginnasiali che non vedono l'ora di diventare protagonisti della nuova giornata mondiale della lingua e della cultura ellenica, in scena dalle 8.30 alle 13 del 6 febbraio, solo sulla piattaforma digitale di Zoom. La professoressa Criscolo ci ha guidato in prima persona in questo tema della democrazia. La forma più evoluta di governo, secondo l'illustre politico atenese, vissuto tra il 495 e il 429 a.C. Pericle, che è l'interprete per Antonomasia della democrazia. Se la grande bellezza della lingua greca e la forza del pensiero in essa racchiusa hanno già contagiato i più giovani studenti del Cairoli, gli insegnanti della scuola di Via Dante ci mettono l'anima per proporre ai loro discepoli percorsi intriganti e costruttivi, come fa la professoressa Angela Romano. Con i miei alunni ho scelto come argomento Santa Sofia. La chiesa di Santa Sofia, che come tutti sappiamo è stata oggetto appunto di dispute ed è tuttora non visitabile o parzialmente visitabile. E Santa Sofia, che invece era proprio un monumento di tolleranza, di apertura e naturalmente noi speriamo che possa tornare ad esserlo. Siamo pronti per questo evento sabato prossimo a cui speriamo possano partecipare tante persone e noi ne siamo molto orgogliosi e l'abbiamo fatto con grande amore. Speriamo che questo amore si veda anche per gli spettatori. Dai tempi antichi all'attualità il passo è breve e se gli studenti di Angela Romano celebreranno la Cattedrale Ortodossa di Istanbul, diventata recentemente moschea, una insigne docente di filologia bizantina, lì a Raffaella Cresci, impreziosirà la giornata dedicata, come ricorda il preside dell'Iceo Classico, Salvatore Consolo, alla rinascita. L'argomento di quest'anno, palingenesia, quindi la palingenesi, il rinnovamento è quanto mai attuale, perché insomma è un periodo di pandemia, speriamo veramente che ci sia una sorta di rinascita. Avremo una lezione magistrale della professoressa Cresci, che è stata ordinario di filologia bizantina all'Università di Genova, che parlerà appunto di Bisanzio e dell'importanza di Bisanzio e della cultura bizantina per la continuità e l'eredità della civiltà greca. Nel settecentenario della morte di Dante ci sarà spazio per ricordare il demiurgo della lingua italiana, ma il 2021 è anche l'anno in cui cade il duecentesimo anniversario dell'indipendenza della Grecia, come ricorda Nikos Frangos, presidente dell'Istituto Ellenico di Cultura. Molti non sanno che a questo evento, che ha portato all'unificazione della Grecia, nel corso degli anni hanno partecipato tanti filelleni europei, che sono venuti, tanti intellettuali, sono accorsi in soccorso della Grecia, nella sua imparilotta contro l'impero ottomano, ma soprattutto ci fa piacere far notare, visto che in queste zone qua a Varese ci sono state molte battaglie dei garibaldini contro l'oppressore austriaco, che tantissimi garibaldini hanno combattuto in Grecia. Addirittura membri della famiglia Garibaldi sono andati in Grecia a combattere per la liberazione della Grecia. È stato Ricciotti Garibaldi, il secondo genito di Garibaldi, ad avere queste iniziative, ha portato con sé i membri della sua famiglia e ci sono quindi degli italiani che sono morti, si sono sacrificati per la libertà in Grecia. Deborah Banffi ci anticipa la nuova puntata di Varese in Rosa e ci parla di Elisa Molteni e del coraggio di andare oltre l'ostacolo. Sentiamo. Un racconto di fantasia che prende però spunto dalla realtà, dalla storia di una ragazza che dopo un brutto incidente ha saputo affrontare ogni difficoltà con coraggio e determinazione, riuscendo a riprendere in mano la sua vita. Si intitola La runa bianca, il canto delle stelle, il primo romanzo della giovane bustocca Elisa Molteni. Prende spunto da ciò che è accaduto anni fa ad una persona che veramente ad oggi posso dire che ce l'ha fatta, che è ancora qui e quindi il mio protagonista è veramente una persona forte, coraggiosa, assolutamente in grado di sconfiggere ogni male, ogni cosa brutta. Il messaggio vuole essere proprio questo, saper trovare la forza per superare gli ostacoli e i momenti bui, come quello che tutti noi stiamo vivendo. Desideravo proprio dare anche un messaggio per quanto riguarda l'epoca che stiamo vivendo, dove ci sentiamo magari imprisionati in qualcosa che non riusciamo a gestire, che non riusciamo a riconoscere, che non riusciamo a sopportare, ma che credendo in noi stessi, nella famiglia e nelle amicizie è possibile magari riuscire a sconfiggere. Il titolo del libro, spiega l'autrice, non è stato scelto a caso. Ho studiato con attenzione la lettura delle rune. Le rune sono molto presenti nella mia storia e la runa bianca è una runa che esiste veramente, è la runa di Odino, è la runa del destino, dei nuovi inizi, dei nuovi orizzonti. E non finisce qui. Elisa sta già scrivendo il suo secondo romanzo. Il secondo volume è già in elaborazione. Sempre in tema di anticipazioni, non può mancare quella di vivere bene, Leandro Ungaro venerdì parlerà di nutrigenetica, una mappa che ricostruisce bisogni e necessità alimentari del nostro organismo. Sentiamo. Noi siamo ciò che mangiamo, quindi la cosa importante è dare la giusta benzina al nostro corpo per permetterci di stare bene. L'unica personalizzazione che noi possiamo avere nel campo della dietologia è data proprio dalla nutrigenetica, nel senso che noi riusciamo ad andare a selezionare, attraverso un'analisi di una serie di polimorfismi, una vera e propria carta di identità alimentare, che è una vera mappatura degli alimenti, che ci permette di capire quali sono i cibi più o meno compatibili, più o meno sensibili, con il nostro profilo genetico. Quindi siamo in grado di usare più cibi che in questo momento ci possono servire di più e che ci devono aiutare a sfiammare il nostro metabolismo e dei cibi che invece non sono utili, non sono necessari, devono essere magari ridotti o eliminati. Ecco che questo quindi già inverte un po' il senso e sconvolge un po' il senso del concetto vero e proprio di dieta, perché in realtà la dieta non significa privazione, limitazione, riduzione, come tutti pensano. Vado dal dietologo, mi metto a regime stretto e non mi fa più mangiare. No, con il termine di dieta si intende cambio di stile di vita. Questa è proprio l'etimologia della parola appunto dieta. E questa è la cosa importante della genetica e della nutrigenetica, dare un cibo che sia il più possibile compatibile, quindi personalizzato con se stessi. Quindi il paziente che ti viene a trovare in studio si troverà in una forma differente dove chi comanda, tra virgolette comanda, non è il dietologo che ti prescrive, ti obbliga, tra virgolette, a mangiare certi cibi, ma è la tua genetica che ti chiede di mangiare determinati cibi e magari di toglierne altri. Quindi andando ad analizzare una serie di polimorfismi con una semplice tecnica che è la realtà in PCR, noi abbiamo una serie di geni che sono on-off e sulla base di questi geni noi andiamo a elaborare una vera e propria mappatura e da lì l'elaborazione di un piano alimentare che è assolutamente personalizzato, proprio perché si parla di genetica. La raccolta porta a porta si colora di verde come ce lo dice De Borbanfi. A Somma Lombardo prende il via il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali. Il servizio, spiega l'assessore Edoardo Piantanida, è a pagamento in modo che ogni cittadino possa decidere se attivarlo in base alle proprie esigenze. Abbiamo un cambiamento diciamo sulla raccolta porta a porta perché abbiamo aggiunto un servizio che è quello della raccolta dei rifiuti vegetali. La raccolta dei rifiuti vegetali sarà un servizio diciamo attivato a parte quindi non sarà nel canone della Tari e avrà due tipologie di servizio. Il servizio di tipo annuale che andrà da febbraio a dicembre e il servizio invece ridotto da aprile a ottobre. Quindi questo tipo di servizio è attivabile mediante un canone ed è obbligatorio comprare il porta rifiuti il contenitore portare i rifiuti. Questa cosa per chi l'ha già attivato lo scorso anno non sarà necessario comprare il contenitore ma soltanto l'attivazione del servizio. E verrà messo appunto come detto a parte perché non vogliamo penalizzare chi ad esempio ha appinto in appartamento e non ha il giardino e quindi è un servizio attivabile solo da chi ne ha un'esigenza particolare. A tutti buonasera il tempo di domani sarà molto nuvoloso salvo un po' di sole sulle Alpi al mattino probabilmente asciutto o soltanto rare gocce le temperature in lieve aumento massime previste tra 6 e 8 gradi mentre le minime comprese tra 3 e 5 gradi. Per il momento è tutto ma fra poco c'è la pagina sportiva state con noi. Grazie a tutti.